Mariana Aprile, coordinatrice questa mattina di un importante convegno, un approfondimento su quello che è lo stato di salute della nostra economia, ma anche con una visione prospettica sul futuro. Buongiorno, sarà una mattinata interessante non solo per la quantità e la qualità dei relatori, ma anche perché la loro composizione rappresenta bene il momento di Taranto, sembra un momento un po' spartiacque, in cui le occasioni iniziano a essere, ci sono tante, bisogna attrezzarsi per saperle cogliere. Forrest, una voce incredibile quella di Mariana Aprile, anche perché ha una R particolarmente affascinante, il suo collega ci gioca spesso su questa cosa, racconterà di questa esperienza tutta pugliese, tutta tarantina in radio? No, Forrest ha un taglio leggero, satirico, a dettare quello che diciamo sono le rassegne stampa del mattino, che in qualche modo riguardano anche il sud, Taranto e il territorio, perché appunto stamani, in diretta dalla stanza dell'albergo con vista sui due mari, abbiamo potuto parlare di autonomia, di questa riforma che ha mosso i primi passi ieri, insomma ci interrogheremo a Forrest a lungo sugli effetti che potrebbe avere sulle divisioni già piuttosto evidenti.